Io dovrei versare mezzacchiere per tutte le sere Che il mio amico in cielo non potrà venere La mia musica indagata è chiacchiera di quartiere Figlio di puttana infame, cambia mestiere Bella ragazzi Ok Bella ragazzi Ed eccomi tornato Sono Godsprax E con un nuovissimo video sul mio canale E sto male Come avrete capito dall'inizio del video E comunque insomma Ci facciamo una classe al volo 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 E poi andiamo a molestare un po' di bimbi Del congo sempre Su questo gioco Allora Intanto vi volevo consigliare questa arma Quindi perchè non farci un gameplay E' veramente un portento Ok Abbiamo fatto la classe Un M8 con Selettore di fuoco E Merino Reflex I bonus Fantasma Inflessibile Sciacallo Destrezza Tomahawk E Black Hat Black Cat Gatto nero 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 Tu me l'hai dato bianco E io non ci sto più Quindi abbiamo un phase in partita Intanto Un phase elite Qua Che vi rendete conto Lui è un vero phase Benissimo Ah guardate che bello Ah guardate che bello questo emblema Tipo Riservo Emblemi Guarda che bello Questo Ah Ah Fantastico Salva e applica su scheda giocatore Subitissimo Andiamo a dire Dal penne Ho sbloccato un biglietto da visita Qui Quale sarà mai Comunque Da quello che avete Cioè insomma Spero che l'avete capito Sono in live Non so Quale cazzo Ho sbloccato qua A quello Ok Insomma Sono in live Sto qui a sclerare Su Black Ops 2 Su questa mappa Che all'inizio mi piaceva Poi mano a mano Mi ha fatto sclerare Sempre più Comunque vi farò vedere La potenza di quest'arma Sperando di potervi Far vedere la potenza di quest'arma Perché Altrimenti Madonniamo In quattro lingue Catturate l'obiettivo Oltellino color sangue Allora guardate Così spara così questa A raffiche Così È una bestia Non ha rinculo Cioè È un portento di arma Facciamo così Ok La gente non muore Già iniziamo con gli assist Ovvio Oh Scoglione C'è creduto Ok Tipo violiamo Ma che cazzo è Dai Ti sparo prima io Ovviamente Stavo anche iniziando A fare un dropshot E poi invece Niente E assist Io ho sparato Quattro colpi In capoccia Che è qua State vissitti Porca madosca Sitte Mignotte Guarda 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 Ce l'avevo dietro Ce l'ho davanti Dietro A destra Manca Macchina da guerra Oddio No No Quello Lancia buffi Infinito Tipo Vuole tipo Un calcio regolabile Un calcio in culo Su st'arma Eh Cristo Banana muori Guarda 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 Le scosse elettriche Ecopergiamento Violato Ora ti viene a prendere No Prendiamo Alpha Strano che non sono morto Di solito succede questo Abbiamo un bel UAB Da lanciare Intanto Oh porco due Tronzone Malefico Black Hat Non c'è niente Non c'è niente Oh merda Di rimbalzo Niente Dai però Vi ecce Su Madonna Siamo così tutta la partita Dai Madonna Cazzo Dio bravo Dai Su Io sto in serie Non ne frega un cazzo Di quello che dici tu Ok Non è Non è vivo L'arma è veramente Portentosa Io lo dico Ve lo ripeto Merda Porco Dio Dove minchia L'avevo quasi preso pure Oh mannaggia Il dio Cagnoso E assist Oh ma che si può salire qua sopra Ma che figata Di serata Dai ma vuoi tanto Sbuchi da qua Scontato Sei scontato A dir poco Allora Volevo farvi vedere La potenza La potenza del black hat Qua Eh dai Eh perché se no Davvero le madonne Che scendevano Ok Sta laggando Ho sentito Di rumori Il qua Che riusciva a sentire i passi No Non si Trappico e basta Allora Non cazzo I mille mila nemici Mille mila No perché Nuoci dovrebbero stare Tipo altri 8 o 9 E Headshot Bitch Tanto Tipo senza rendermene conto Sto anche in serie Per i di Bissart Però io direi di andare Piano piano Prima di passare A conclusioni Dio affrettate Ma guardate quanto lagga Ma porco Guarda Gesù Ma perché c'è una tacca Tutti con una tacca Un gioco di merda Oddio Tipo tenente Morse Movi un martello No il martello ce l'ho già Stai in mezzo alle gambe LOL 5 Avemo partono i non mi piace Per gli haters Di tenente morto Ciao haters Porco dio Mannaggia a me Che non guardo Stai Però Eeeh Killcam Così No Niente Killcam Così Oh 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 Donde stai Puttana Di merda Porco diaz Ma Ma dai No se morivo Ma guarda Quello io ho sparato Quattro colpi prima Porco dio Ehi Round E' finito E' finito E' finito Eh Questi delfini morto Cioè anzi Uno è morto L'altro no Mamma mia Qua proprio La classe nabba Ho messo Capito Tipo le mp7 Su mv3 Fai così Arma che sciotta Con le bouncing betti Comunque se ve lo state chiedendo Sì sto usando il black cut Uso sempre il black cut Perché è apparentemente Formidabiloso Eeeh Cioè tipo ti fa rubare Gli approvvigionamenti nemici Eeeh Nadia Tu muori Vediamo se vi fa Facciamo morire Puoi morire anche tu E questo Sennò io vedevo E qui Paggiamento violato Quando quello si avvicina In pratica Vedi Mi prende Mi prende la scosta E succede così Nooo Nooo Cioè io Non ci credo Cioè Piavo con la cazzo De bandiera Facevo una cazzo Di uccisione Cioè avevo Il visat Orbitale qua Tu madre a 90 Oh Oh ma che cos'è Ti levi dal cazzo Levatemi Ostia Ostia Come direbbe Un qualcuno Qui Eeeh Eeeh Mannaggia la puttana Mannaggia la puttana Chi è che mi spara Iosa Ok Molestiamo i bimbi Ciao bimbo Lì c'era un bimbo Oh merda Quanti cazzo so Si vabbè Però Cioè Non fate I timidoni Eh vabbè Esplodimo Tanto sti cazzi Si lo so Devo fare gli headshot Ma non mi andava Merda Cazzo Ma come sono scemi Che non mi vedono E non mi sparano O cosa Che mi lancia delle granate Porca puttana No Eh no Eh no Ma dai E ancora Una del bisat Mamma mia Quante pompe Fa tua madre E dai Muori Ostia Ma ostia Ancora L'unico controattacche Dio merda Ma però Ostia Davvero Non mi piace proprio Ostia I'm sorry Gabbo Porco Il bambin Gesù Siete Tipo Porta due chiodi Anche tu Eh tipo Porta Tipo Inchiodare Il bambino Gesù Una roba del genere Una cazzoncina Fantastica E poi se la ritrovo Ve la linkerò Dio Guardalo Guarda lì Anzi In 83 Eh tipo Questa è Sparta In 300 Questo si fa Le double fed Le double fed Bravo Fatti le double fed Io intanto Mi double fed Tua madre Sono 11 minuti Ma boh Può essere Che ne faremo Un'altra Perché oggi Sono proprio Trucita underground Dove cazzo sta Fiamo se Alfa Fiamo se La Ok Oh porco Due Guarda che idiota Sono un idiota Cioè Avevo il coso davanti Mannaggia Bambiniccio Vabbè insomma Con questi quasi 4000 punti Sì Siamo fatti Dai Veloce Veloce Non me ne frega un cazzo Dai Basta 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 Famosa Famosa Un'altra partita Però famosa Tipo che non so Una partita Leggera Agile Agile Alla strategia Tipo mix Dei youtuber Dopo agile Agile Alla strategia Allora Sì Bello Bello Allora Sì Ciao Crea una classe Ce la facciamo Ce la facciamo Massimo Usiamo questa sorta Ci mettiamo un bel Silenziateaur Ci mettiamo Un Solido Bleccatino Il C4 E Vamos Così Bla 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 Sì Mi ci mette Tipo Ok L'emblema Arma Ce l'ho messo Ci rimettiamo Al volo L'emblema Di prima Aspetta Tanto A me Deve A Fastidio Che Cd100 Usando Granate Letali Con una classe Che ha Due granate Letali Equipaggiate Beh Ci mettiamo Questo E infine Mi fate Cambiare L'emblema Youtube Fra Parcorre Leggete bene Sopra Cosa c'è scritto Eh Cosa c'è scritto Sopra Bene 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 Rifacciamoci Un dominio Agile Agile Stavolta Usiamo L'MSMC Con il silenziatore Perché Se no Dio Non gli piace Non gli va bene Sta cosa No Non voglio La new version Di Mediafire Che cazzo Non lo so Comunque Ho fatto tipo Gli avatar nuovi Per i gods Quindi Passate pure Sulla pagina Fan Di facebook Che c'è L'immagine Messa bella Grossa Potete Vederla Meglio E Sì Insomma È uno spettacolo Mi piace Una cifra A me Ho fatto Tutti I colori Diversi E Beh Begli emblemi Bella fantasia Dai però Trovatemi Un'addio Partita Su X Mannaggia Incredibile Porco Dio Vabbè Giocavo Un 3 Comunque Questo gioco Devo dire Che è fatto Meglio Ma mi fa Sclerare più Di mv3 Cioè Non lo so Non la so Non so perché Però cioè Certe volte Davvero Si muore In Delle situazioni Proprio Talmente atroci E talmente Assurde Che uno inizia Guepe Kenio 98 Lui è un pro Soprattutto Maggiorenne E Guepe Kenio Porco Tuo Dai Dai Una partita Non vi sto Chiedendo troppo Una semplice Partita Dai Anzi no Regà Fermi Mi è venuta Un'idea No però Non mi va Non mi va Volevo fare Tipo una partita Col cecchino Che vi giuro Che non ho mai Ma proprio Mai mai Usato il cecchino Online Cioè lo giuro Non ho mai usato Il cecchino Online Quindi qua Uso Due Sordetti Vabbè Dato che non ho mai Usato il cecchino Online Come potete Benissimo vedere Attenzione Ah no no Ho fatto 48 Ah Ho fatto 48 kill Potete capire bene Che Non è che L'ho usato Tanto Anzi 48 kill L'avrò fatto Con quelli presi Da per terra Perché Non ci ho mai Iniziato una partita Però mi sono rotto Il cazzo Di questa lobby Di merda Anzi ci facciamo Un deathmatch A squadre Proprio perché Faccio schifo Altrimenti Cioè Allora È finita 4 minuti fa La partita Non so se ci rendiamo conto Sono 5 minuti Che sto a trovare Una cazzo di partita Entra 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 Niente Vabbè ovviamente Cambiamo le serie di punti Mettiamo Wav Drone d'attacco No Drone d'attacco Non mi piace Wav Contraattacco Wav E missile Hellstorm E niente I gazas Boy Dai I gazas Boy Porco Gazas Oh Ha trovato Un po' Di più Ah ma N'altro Ah no Era Quello Madonna mia Che palle Che palle Si escono pure qua Ilag Merlino Ilag Ti puoi chiamare Ilag Merlino Silvio Silvio Ilag Merlino Silvio Questo che è Nascinima Oddio che palle No ma mia Vedi Cioè Sto gioco Poi dici Che non ti fa Scredare Cioè Quanto cazzo è Che sto cercando Una partita È impossibile È impossibile No Vabbè ragazzi Mi dispiace Come potete vedere Non si riesce a partire Con una cazzo di partita Del Cresto Iddio Quindi vi rimando O a domani O dopo domani Con un live Col cecchino Ve lo giuro Spero almeno Di giurarvelo Perché Sono una pippa Col cecchino Comunque Siamo a 18 minuti Di registrazione Quindi Vi devo salutare Perché una certa Si fa Si Si protrae Troppo Comunque Bene ragazzi Da Godfrax Lasciate un like E un commento Per piacere In questo video Vorrei che mi lasciasse I like Se avete visto il video Se vi è piaciuto Perché vorrei capire Quante persone Bene o male Attive ci sono Nel canale Quindi lasciate Tanti di cui mi piace Da fare in video A X Dread E quindi Un saluto Bella